E' un caso raro ormai quello di nascere in casa. E' successo questa notte a Tegiano dove una donna di 34 anni di origine intiana ha partorito il proprio bebè sul suo letto con l'aiuto del marito. E' il terzo figlio della donna. Intorno alle 2 di notte il bambino probabilmente aveva voglia di venire alla luce e quindi la donna ha partorito sul proprio letto. In seguito sono stati chiamati gli operatori del 118 che hanno trasportato la mamma e il bambino di un chilo e duecentogrammi all'ospedale di Polla. La 34enne è stata ricoverata nel reparto di ginecologia ostetricia diretto dal dottor Francesco Dell'Aurendis. Invece il bambino per sicurezza è stato trasferito al TIN di Salerno ma è in buone condizioni. E' un esempio questo di come la vita anche in momenti di difficoltà, anche in emergenza come quella che stiamo vivendo con il coronavirus, voglia essere più forte di tutto e vincere. Quindi auguri a questa nuova mamma e auguri anche alla comunità di Tegiano che vede dopo tanto tempo una nascita nel proprio paese. Proprio qualche anno fa un'altra persona, sempre Tegiano, aveva partorito in casa.